Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video targato iPhoneItalia.com Oggi andiamo a guardare le custodie di Kodabo, credo di averlo pronunciato in modo corretto In particolare sono la Veil XT e la Sheet, credo di averlo pronunciato correttamente anche in questo caso Perché lì diciamo che il fraintendimento è abbastanza semplice, andiamo a guardarle subito in questo video Allora ragazzi, Kodabo è stata gentilissima a fornirmi non solo un modello per ognuna cover Ma in realtà mi ha fornito ben 4 Veil e 2 Sheet Andiamo quindi ad aprire le prime, vi faccio vedere i vari colori in cui sono disponibili le custodie Veil Abbiamo, non so neanche sinceramente se questi siano tutti i modelli, abbiamo la versione rossa, molto carina Sinceramente si è abbinata ad iPhone nero, poi le andiamo a provare come si deve, prima le spacchettiamo tutte Qui abbiamo il modello trasparente, trasparente chiaro diciamo, proprio di questa colorazione Molto ben indicato per iPhone bianchi Qui appunto abbiamo già visto, qui abbiamo quella blu, molto carina anche questa Eccola qui, la mettiamo sempre a fianco e poi andiamo a vedere anche questa che è la mia preferita Questa è una trasparente sul nero diciamo Quindi questi sono i tre modelli di Sheet Abbiamo blu, bianco, rosso e nero Ora andiamo a vedere, scusate questa è la Veil, andiamo a vedere la Sheet invece Questa è una custodia un po' diversa, è un po' più spessa, dopo appunto ve le descrivo nei dettagli Eccola qui La mettiamo un attimo qua vicino E andiamo a vedere l'altro modello che è sempre un grigio ma leggermente diverso Allora, ecco qui il parco custodie di Codable Adesso iniziamo a provarle una ad una sul nostro iPhone 6S Custodie che l'azienda vende sia per iPhone 6S sia per iPhone 6S Allora, partiamo da quella blu che a me piace particolarmente Partiamo dalla Veil intanto La serie Veil sono custodie abbastanza sottili Quindi l'applicazione magari potrebbe essere un po' difficoltosa Comunque la precisione poi di queste custodie è veramente incredibile Guardate qui le rifiniture nella zona dell'altoparlante sono perfette Anche nella zona dei tasti del volume e tasto power Insomma tutto veramente ottimo Anche ottimo il grip in mano La custodia veramente non inspessisce Non cambia tanto la resa appunto del telefono in mano Ma lo rende più stabile Versione blu molto carina Andiamo a montare le altre Ora come vedete anche la rimozione della cover è un attimino difficoltosa Seconda mia preferenza tra la serie Veil E questa qui è la Veil in versione trasparente Questa praticamente neanche si nota Vedete come se non ci fosse davvero Ottima 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 Se proprio volete un iPhone discreto Che non abbia praticamente nessun segnale di avere una cover su Beh la Veil in questa versione è davvero ottima Probabilmente se avete un iPhone bianco dietro un iPhone silver Potrebbe andare ancora meglio Perché in questo caso vedete comunque un po' viene schiarito l'iPhone space grey sul retro Mentre l'iPhone silver praticamente sarebbe quasi nella sua tinta originale Proviamo ora la rossa E in tutte le cover, questo non ve l'ho detto, della serie Veil Essendo molto sottili Cadable non ha comunque dimenticato di inspessire leggermente qui la zona della fotocamera Per coprire comunque appunto per fare andare a filo la fotocamera per proteggerla in caso di caduta Comunque questa è la versione rossa anche questa molto molto carina col nero Devo dire si abbina molto bene e non solo perché sono milanista Ma proprio perché è bello l'abbinamento rosso nero Ma arriviamo a quella che secondo me è quella che sta meglio su iPhone nero e che quindi è quella che sto utilizzando in questi giorni Se riesco a rimuovere quella rossa perché appunto sono un po' difficili da rimuovere in quanto sono precisissime Quindi non ci sono diciamo dei punti morti in cui fare presa per disancorarle Questa è quella nera Molto molto carina Anche perché vedete rende l'iPhone praticamente all black in questo caso Insomma Veil XT, la serie Veil XT è indicata per chi non cerca una custodia super protettiva Ma invece cerca un qualcosa di super discreto e semplicemente che vada a migliorare la presa di iPhone 6 e iPhone 6S A discapito chiaramente della protezione La Veil XT è disponibile online per l'acquisto nelle versioni per iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6 Plus e iPhone 6S Plus Ad un prezzo di 19,95 dollari Passiamo ora alla serie Sheet Andiamo a montare la prima questa qui Queste sono custodi leggermente più morbide in silicone Mentre queste sono materiale plastico differente Queste forse sono un po' più spartane diciamocelo subito Anche se sono ugualmente precisissime e abbastanza sottili Però chiaramente non così sottili come la Veil Che chiaramente Veil significa velo Quindi rende benissimo il nome l'effetto della custodia Allora precisissimi anche in questo caso i pulsanti qui o meglio gli ingressi Gli spazi per gli ingressi e per lo speaker In questo caso il pulsante power e i pulsantini per il volume vengono ricoperti dalla custodia Mentre il tastino della vibrazione resta visibile Dietro vedete la cover cerca di ripetere più o meno la divisione delle antenne qui di iPhone 6S Molto precisa la zona della fotocamera Anche in questo caso viene ricoperta completamente per evitare problemi Quindi la Sheet è una custodia un po' più sicura della Veil Assolutamente anche perché ha un bordino sullo schermo come potete vedere Che lo proteggerà anche in caso di cadute Quindi se cercate una protezione comunque discreta Perché in mano l'iPhone non diventa super ciccione Comunque si può tenere con un feeling molto buono Beh probabilmente meglio la Sheet che la Veil Se state guardando i prodotti Cadable Ma andiamo a provare anche l'ultima custodia Che è sempre una Sheet però in versione leggermente più chiara Sempre nera ma leggermente più chiara E devo dire questa secondo me sta un pochino meglio su iPhone nero È una mia impressione Eccoci qui Quindi come vedete appunto differenza molto lieve tra le due Questa diciamo questo è un grigio questo è un nero Molto simili però questa secondo me sta meglio sull'iPhone Space Gray Appunto si parla di grigio quindi sul grigio sta meglio il grigio Per quanto riguarda anche la Sheet il prezzo non cambia Ed è sempre di 19,95 dollari Bene ragazzi quindi queste sono le proposte di Cadable Per iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6 Plus e iPhone 6S Abbiamo visto la serie Veil che a me sinceramente piace un pochino di più Perché è un po' più discreta ma protegge meno Quindi questo è un dato di fatto e bisogna tener conto È la serie Sheet che invece protegge meglio i dispositivi Protegge anche lo schermo È un po' più spessa come custodia È di sicuro un po' più invadente perché coprirà il retro del vostro dispositivo Ma appunto è più sicura I prezzi sono gli stessi come abbiamo detto 19,95, 19,95 per entrambi i prodotti Si parla in dollari chiaramente L'ordine può essere fatto dal sito dell'azienda La spedizione non è velocissima Perché nel mio caso è stata fatta con la posta ordinaria degli Stati Uniti E ci ha messo un po' quindi per arrivare Però tutto sommato non è stata molto lenta Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di queste custodie E noi ci risentiamo al prossimo video Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com Ciao a tutti